Benvenuti a questa lezione di programmazione d'oggetti in cui parleremo di Java Stream. Gli stream in Java sono una nuova serie di API che permettono di andare ad elaborare dei dati seguendo un paradigma che è il paradigma funzionale, ovvero quello in cui applico ai dati una serie di funzioni una dopo l'altra finché li trasformo in quello che effettivamente voglio andare a ottenere. Che cos'è uno stream? Uno stream in sé è una sequenza di elementi che vengono generati da una sorgente e questa sequenza supporta l'applicazione di una serie di operazioni o funzioni. Queste operazioni sono definite in termini di oggetti comportamentali, quindi oggetti per i quali viene chiamato un metodo e questo metodo viene chiamato per ogni elemento che deve essere elaborato. Alcune caratteristiche di base che sono fornite dall'API per lo stream in Java sono il pipelining, ovvero la possibilità di avere una sequenza di operazioni che vengono applicate eventualmente e contemporaneamente su elementi successivi, l'internalizzazione delle iterazioni, quindi non ci sono esplicitamente dei loop per andare a elaborare tutti gli elementi della sequenza ma io specifico esclusivamente l'operazione e automaticamente, implicitamente, questa operazione viene applicata su tutti gli elementi dello stream e soprattutto quella che si chiama la valutazione, diciamo, lazy, pigra, ovvero le operazioni vengono eseguite soltanto quando sono necessarie, ovvero finché non c'è qualche operazione terminale che richiede il risultato e a questo punto viene scatenata tutta la sequenza di operazioni, quindi la lettura della sorgente e tutte le operazioni che vengono eseguite. Quando parliamo di pipelining parliamo di una sequenza di operazioni che possono essere applicate contemporaneamente su elementi successivi, quindi quando il primo elemento viene generato, viene eseguita la prima operazione e poi la seconda operazione viene eseguita contemporaneamente alla prima, ovviamente sui due elementi successivi, finché man mano che gli elementi percorrono questa catena di operazioni intermedie raggiungono quella che è un'operazione terminale che alla fine utilizza o elabora in qualche modo il risultato. Ad esempio, quando noi abbiamo una sorgente, questa sorgente potrebbe essere presa da una sequenza di elementi, ad esempio un array, un elenco di parole, di elementi, e quindi lo stream è costituito da tutti questi elementi. Le operazioni intermedie cosa fanno? Operano su questi elementi. Ad esempio, c'è un'operazione che si chiama sorted che permette di andare a ordinare gli elementi in base all'ordinamento naturale, in base a un comparatore, quindi posso avere diverse strategie. Posso avere operazioni che vanno a limitare gli elementi, ad esempio c'è un'operazione che si chiama limit che permette di andare a ridurre il numero di elementi, per cui se prima ordino gli elementi e poi faccio limit 4, sostanzialmente andrò a prendere i primi 4 elementi dopo l'ordinamento. E poi ci sono operazioni terminali, che cosa fanno? Che consumano quello che è il risultato. Un'operazione terminale molto banale è quella che si chiama forice, per cui per tutti gli elementi che sono stati il risultato delle operazioni intermedie precedenti viene eseguita una qualche operazione. Nell'esempio che vediamo qua viene chiamato il metodo println, passandogli il risultato dell'elemento che è arrivato all'operazione finale. Iniziamo a vedere quali sono gli elementi, quindi quali sono i metodi che ci permettono di andare a costruire uno stream, quindi definire la sorgente degli elementi, quelle che sono le operazioni intermedie di elaborazione e poi quelle che sono le operazioni finali. Iniziamo da quelle che sono le operazioni di sorgente. Io posso andare a costruire uno stream utilizzando tre approcci principali. Posso utilizzare il metodo stream di Arrays, che sostanzialmente restituisce uno stream a partire degli elementi che stanno in un array. Posso utilizzare il metodo stream che è definito all'interno dell'interfaccia Collection e quindi si applica a tutti i contenitori di gruppo. È un metodo di default, quindi è stato aggiunto poi successivamente rispetto ai metodi originalmente definiti in Collection, quindi nelle prime versioni di Java. Oppure c'è un metodo che si chiama of della classe stream che permette di andare a prendere una sequenza di elementi, quindi quelli che io passo come parametri ed essendo un numero variabile di parametri con i puntini sostanzialmente io posso passare a questo metodo sia una lista di parametri che direttamente un array di parametri. Quindi sostanzialmente questo of è equivalente all'array.stream della classe Arrays. Ad esempio, utilizzando il metodo stream della classe Arrays, io posso definire un array e poi fare arrays.stream e passare questa array di stream e stamparli tutti. Oppure, in maniera del tutto analoga, posso chiamare stream.of e poi passare un elenco di valori che verranno messi dentro lo stream. Ovviamente gli stream si basano su elementi che sono omogenei, ovvero tutti gli elementi di uno stream devono essere dello stesso tipo, come tutti gli elementi di un array hanno lo stesso tipo esattamente per gli elementi di uno stream. Ovviamente vale il polimorfismo per cui io posso sostituire a un elemento dello stream un oggetto che implementa una classe derivata di quella di partenza. Terzo metodo è quello di utilizzare il metodo stream della classe Collection, per cui se ho ad esempio una linked list a cui aggiungo degli studenti, posso utilizzare il metodo stream per andare a creare per l'appunto uno stream di oggetti di tipo studente. Tutti questi sono dei meccanismi che mi permettono di andare a, partendo da un insieme di elementi che io ho già a disposizione, creare quello che è uno stream. Quindi, dato un array o una collezione, io posso creare uno stream che è in grado di andare ad elaborare i propri elementi. Esiste un altro modo di costruire degli stream, ovvero in maniera generativa. Esiste un metodo che si chiama generate della classe stream che accetta come parametro un supplier e quindi ogni volta che è necessario produrre un nuovo elemento dello stream si chiama il metodo get del supplier che viene fornito. C'è un altro meccanismo che è un po' più semplificato che si chiama iterate, in cui io vado a fornire un oggetto di partenza chiamato il seme e poi un operatore unario, ovvero una funzione che prende l'elemento precedente e restituisce il prossimo. Oppure, sostanzialmente per motivi di test, io posso utilizzare il metodo empty della classe stream che mi permette di generare uno stream vuoto, ovvero senza elementi. Ovviamente non ha molto senso se non per andare a verificare che le nostre sequenze di operazioni funzionino correttamente anche in presenza di uno stream vuoto. Per cui, se ad esempio voglio andare a generare una sequenza di numeri casuali, posso chiamare il metodo generate a cui passo un supplier che ogni volta che viene chiamato restituisce il valore generato dal metodo random di math moltiplicato per 10, quindi è un numero sostanzialmente compreso tra 0 e 10. Oppure, se voglio andare a generare tutti i numeri pari, parto da 0, il seed, e poi per ogni valore restituisco il valore più 2. Attenzione, tutti questi meccanismi, quindi sia generate che iterate, generano degli stream che sono infiniti. Quindi, sostanzialmente, se io non vado a mettere un meccanismo che limiti il numero di elementi che sono generati, questi stream continuano a generare nuovi elementi all'infinito e quindi la mia elaborazione non terminerà mai. I metodi che abbiamo visto finora e la classe stream sostanzialmente operano su tipi da definire, infatti stream è definito come una classe generica. A volte, abbiamo visto parlando delle collezioni, può essere poco efficiente utilizzare come elementi dei, degli oggetti. A volte è più efficiente utilizzare dei tipi primitivi. Per questo motivo, oltre alla classe stream, sono state definite delle classi specializzate, delle varianti specializzate della classe stream, che permettono di trattare non degli oggetti, ma bensì dei tipi primitivi. Per cui abbiamo double stream, in stream e long stream, che permettono di, appunto, andare a elaborare degli stream di tipi primitivi, sostanzialmente andando a ridurre le operazioni che richiedono boxing e unboxing e riducendo l'occupazione di memoria se questi oggetti wrapper devono essere creati più volte. Là è possibile convertire uno stream di oggetti in uno stream di tipo primitivo utilizzando il metodo mapToDouble, mapToInt o mapToLong, che permettono quindi, dato un oggetto, uno stream di un certo tipo di oggetti, di andare a estrarre un valore double, intero o long e poi proseguire le operazioni successive utilizzando i valori primitivi invece degli oggetti. Queste tre classi definiscono metodi aggiuntivi, ad esempio definiscono un metodo di generazione che si chiama range, che ha due parametri di inizio e di fine, e quindi sostanzialmente genera una sequenza di numeri da A. Ovviamente per i valori, per gli stream numerici esistono delle operazioni terminali in più rispetto agli oggetti normali. Ad esempio, visto che questi sono tutti i valori numerici, c'è un'operazione finale che si chiama average. In questi esempi possiamo vedere come si comportano le due alternative. Nel primo caso viene costruito un int stream utilizzando il metodo di generazione. Il metodo di generazione sostanzialmente, analogamente a quanto abbiamo visto prima, genera un numero casuale compreso tra 0 e 100. Dopodiché uso questo stream, limito il numero, vado a calcolare il massimo e recupero il risultato come un intero. Il risultato di max è un valore optional, perché potenzialmente se il mio stream è vuoto max non genera nessun valore. Nell'altra variante uso uno stream, a questo punto, di integer e il metodo di generazione sostanzialmente è esattamente analogo all'altro. A questo punto chiamo la sequenza, vado a limitare il numero a 10, calcolo il massimo, devo andare a specificare in base a come, in base a quale ordinamento calcolo il massimo, quindi vado a dire l'ordine naturale e poi vado a chiamare il metodo get e mi restituisce l'oggetto integer. In termini di tempi di esecuzione, il primo richiede circa 24 nanosecondi per ogni singolo elemento da valutare. Il secondo ne richiede 30, quindi in pratica ho una differenza che corrisponde a circa 6 nanosecondi, che sono dovuti a operazioni di boxing e unboxing, sostanzialmente unboxing, perché qui devo andare semplicemente a leggere il valore. Ovviamente nel momento in cui io devo andare a generare nuovi oggetti, questo overhead dovuto all'uso di oggetti wrapper invece dei tipi primitivi inizia a essere molto più pesante. Parliamo a questo punto di quelle che sono le operazioni intermedie. Qui ho riepilogato quelle che sono le operazioni principali, quindi abbiamo la possibilità di andare a filtrare gli elementi in base a un predicato, limitare il numero di elementi che vogliamo andare a elaborare, possiamo saltare un certo numero iniziale di elementi, possiamo ordinare gli elementi andando a fornire un comparatore opzionale, possiamo andare a eliminare i duplicati utilizzando d'instinct, oppure possiamo fare un'operazione di mapping, ovvero dato un elemento che è presente nello stream, possiamo calconare un nuovo elemento che andremo a mettere nello stream a valle. Per cui possiamo prendere uno stream di un certo tipo e produrre uno stream di un tipo diverso, dove il tipo diverso è quello che viene prodotto a partire dagli elementi dello stream in ingresso. I primi tre elementi sono quelli che ci permettono di andare a fare un filtraggio molto, molto base. Distinct è un metodo che, prendi gli elementi in ingresso, va a scartare tutti i duplicati. Limit invece sostanzialmente prende un certo numero di elementi e scarta tutti quelli che seguono. Ovviamente limit è utile se noi abbiamo uno stream infinito e noi vogliamo andare a limitare il numero di elementi che vengono effettivamente generati. E poi c'è skip, che sostanzialmente fa un'operazione opposta a limit e quindi invece di prendere i primi n elementi, salta i primi n elementi. Ovviamente skip, distinct e buona parte delle operazioni che abbiamo visto, non funzionano bene se noi abbiamo uno stream infinito, perché non ci limitano il numero di elementi. Un filtraggio un pochettino più sofisticato è possibile farlo utilizzando il metodo filter, a cui noi passiamo un predicato. Un predicato che cos'è? È una delle interfacce funzionali a cui abbiamo accennato in precedenza, che sostanzialmente prende come parametro un oggetto di tipo T e ci restituisce un valore booleano, vero o falso. Se il valore è vero, l'elemento viene fatto passare oltre alle operazioni successive. Se è falso, viene scartato. Quindi, ad esempio, se noi abbiamo un stream di studenti, possiamo filtrare gli studenti di genere femminile con questo metodo isFemale e poi stamparli. Ovviamente, invece di utilizzare un method reference, posso utilizzare una lambda se l'operazione che voglio fare non è già inclusa all'interno di un metodo che mi restituisce un valore booleano, ma voglio fare un'operazione un po' più complicata. Ad esempio, in questo caso, vado a prendere il nome degli studenti che mi vengono passati e vado a vedere se il nome è uguale a John. In questo caso lo faccio passare, altrimenti scarto tutti quelli che hanno un nome che non è John. Queste sono operazioni che sostanzialmente mi filtrano e quindi vanno a selezionare gli elementi che vengono passati oltre. Un'altra operazione che può essere utile è quella di ordinamento, in cui sostanzialmente non c'è nessun filtraggio, ma semplicemente gli elementi vengono messi in ordine. Se io passo nessun parametro, quindi chiamo sorted senza parametri, quello che viene fatto è un'operazione di ordinamento in base a quello che è l'ordinamento naturale degli elementi e quindi per applicare questa operazione di ordinamento gli elementi devono avere un ordinamento naturale, quindi devono implementare l'interfaccia comparable, oppure posso utilizzare il metodo sorter da cui passo un comparatore. A questo punto gli elementi non necessariamente devono avere un proprio ordine naturale, ma verrà utilizzato il comparatore per andare a ordinare gli elementi. Altra operazione che io posso andare a fare è quella di mapping, ovvero ho degli elementi dello stream, applico un'operazione e faccio corrispondere a ogni elemento dello stream un elemento che calcolo in qualche modo. Il caso più semplice che vediamo qua è quando io, dato uno stream di studenti, vado a chiamare ad esempio il metodo getFirst, quindi che cosa ottengo? Ho uno stream di oggetti tipo studente, l'operazione map che cosa fa? Prende uno studente e restituisce il suo nome. Il suo nome sarà una stringa, quindi in ingresso all'operazione di map ho uno stream di studenti, in uscita ho uno stream di stringhe, che poi con questo for each vado a stampare. L'operazione di mapping può anche essere utile per andare a trasformare uno stream di oggetti in uno stream di tipi primitivi, per cui mapToInt, mapToLong e mapToDouble permettono di prendere un oggetto dello stream del tipo T e andare a calcolare un valore intero, long o double, a partire da questo oggetto. A questo punto ho in ingresso uno stream di studenti, stringa, quello che volete, e ho in uscita uno stream di uno di questi tipi primitivi. Ad esempio, stream di studenti, faccio un'operazione di mapping in cui vado a estrarre il nome, quindi ho uno stream di stringhe e poi faccio un'altra operazione di mapping su un intero, quindi quello che ottengo è uno stream di tipi primitivi che corrispondono alla lunghezza dei nomi degli studenti. E poi li stampo. Veniamo ora a esaminare quelle che sono le operazioni terminali, ovvero quelle che dopo le varie trasformazioni consumano gli elementi di uno stream. Ci sono alcune operazioni sostanzialmente molto semplici che sono quelle che vediamo in questa slide. Si tratta sostanzialmente di findAny che restituisce sostanzialmente un qualunque elemento dove l'ordine non conta e findFirst che restituisce il primo elemento dove invece l'ordine viene considerato. Qual è la differenza tra i due? Sostanzialmente che se abbiamo delle elaborazioni che possono essere svolte in parallelo è possibile che il primo elemento che viene prodotto dalla sorgente venga elaborato con più ritardo rispetto al secondo elemento. FindAny ne prende o uno o l'altro, diciamo quello che arriva per primo. FindFirst invece aspetta che venga elaborato il primo elemento e va a recuperare quello. Entrambi restituiscono un optional perché in pratica è possibile, in presenza di uno stream vuoto oppure di uno stream che ha dei filtri che eliminano tutti gli elementi, che nessun elemento venga effettivamente restituito. Ci sono poi due operazioni terminali che sono min e max che vanno a restituire il minimo o il massimo tra tutti gli elementi che arrivano e anche questi restituiscono un optional. Questi due metodi prevedono l'utilizzo di un comparatore che permetta di andare a scegliere qual è il criterio con cui andare a determinare il minimo o il massimo all'interno degli elementi che scorrono nello stream. Count che semplicemente ci restituisce il numero di elementi. Vi faccio notare che Count restituisce un valore long. Noi siamo abituati con gli interi che utilizzano degli indici di tipo int. Ecco Count utilizza un long perché gli stream sono pensati per elaborare grandissime quantità di dati e quindi è possibile che un int non sia sufficiente per andare a memorizzare il numero di elementi gestiti da uno stream. E poi abbiamo il for each che abbiamo già visto negli esempi precedenti, che sostanzialmente riceve come parametro un consumer che verrà utilizzato ogni volta per andare a consumare tutti gli elementi che vengono elaborati dallo stream che raggiungono questo terminale. Volendo possiamo andare a fare una selezione in base ad alcuni criteri, per cui possiamo andare a verificare se un qualunque elemento dello stream che arriva corrisponde a un certo predicato. AnyMatch fa proprio questo. Riceve come parametro un oggetto di tipo predicate e viene utilizzato per andare a verificare se almeno un elemento di quelli che transitano fino alla fine del nostro stream verifica la condizione. Sostanzialmente al primo elemento che soddisfa la condizione il nostro AnyMatch restituirà vero. AllMatch invece va a verificare che tutti gli elementi che arrivano in fondo al nostro stream effettivamente verificano la condizione specificata dal predicato. Quindi deve esaminare tutti gli elementi e una volta che tutti gli elementi fino all'ultimo prodotto dalla nostra sorgente che arrivano in fondo allo stream soddisfano il criterio, allora restituisce True, altrimenti restituisce False. NonMatch invece va a verificare che nessuno degli elementi verifichi la condizione. I due sono ovviamente uno il duale dell'altro, quindi questo nel momento in cui trova un elemento che non soddisfa la condizione ci restituisce False, altrimenti aspetta di verificare fino in fondo. Il NanMatch invece fa l'operazione inversa, ovvero verifica che nessuno degli elementi dello stream effettivamente risponda alla condizione specificata dal predicato. Quando andiamo a considerare le operazioni, terminali o intermedie, possiamo classificarle in due grosse categorie, quelle che sono stateless e quelle che sono stateful. Le operazioni stateless sostanzialmente non hanno bisogno di stato, ovvero non hanno bisogno di memoria aggiuntiva per essere svolte. Un esempio tipico è l'operazione di map o di filter. Map prende un elemento, calcola la sua corrispondenza e lo produce. Filter verifica la condizione e fa passare o meno l'elemento. Quindi non è necessario utilizzare memoria aggiuntiva. E poi ci sono operazioni stateful che invece hanno bisogno di un po' di memoria aggiuntiva per andare a svolgere le loro operazioni. Ad esempio, l'operazione di limit permette di andare a limitare il numero, quindi io ho bisogno quantomeno di un contatore che mi permetta di limitare il numero di elementi. Sorted è un altro esempio. Per ordinare gli elementi io devo andare ad accumularli e mantenerli in ordine. E ovviamente non posso rilasciare il primo elemento finché non ho esaminati tutti, perché l'ultimo elemento che mi arriva potrebbe essere il primo, secondo l'ordinamento. Questi due esempi ricadono in due sottocategorie, bounded e unbounded. Bounded sono le operazioni che hanno bisogno di informazioni di stato, quindi dati aggiuntivi, che però sono limitate, ovvero la quantità di informazioni necessarie non dipende dal numero di elementi, mentre invece unbounded sono le operazioni che richiedono memoria aggiuntiva e questa memoria tendenzialmente è proporzionale al numero di elementi che devono essere elaborati. Parlando di operazioni terminali, ce ne sono due particolarmente interessanti che non abbiamo menzionato prima, che sono le operazioni di reduce e di collette, che rispettivamente sono una bounded e l'altra unbounded. Che cosa fanno queste due operazioni? Allora, reduce sostanzialmente prende due elementi, un elemento iniziale e ogni nuovo elemento che arriva nello stream, li combina e produce un nuovo elemento. Quel nuovo elemento verrà poi utilizzato e combinato con il prossimo elemento dello stream. Quindi il risultato sostanzialmente è ridurre una sequenza di elementi dello stream in uno solo, andando a combinarli due alla volta. L'operazione di collect invece è un po' più complicata, perché mi permette di andare a fare un'operazione in cui vado a mettere degli elementi normalmente all'interno di un collettore, ovvero un oggetto che può ospitare tanti elementi. È unbounded perché, ad esempio, una tipica operazione di collect è quella di andare a mettere tutti gli elementi all'interno di una lista. Ovviamente la memoria della lista dipende da quanti elementi ho all'interno della mia stream. Vediamo un po' più nel dettaglio l'operazione di reduce. Reduce permette di operare su due elementi, un valore iniziale, che è quello che è il semi-iniziale delle operazioni, e poi un'operazione di binary operator, che cosa fa? Fonde l'elemento corrente con il prossimo elemento della lista. L'elemento corrente qual è? Inizialmente è il valore identità e successivamente sarà il risultato dell'operazione di merge precedente. Per cui, ad esempio, se io prendo uno stream che contiene i miei studenti, vado a prendere il nome di battesimo, dopodiché vado a prendere la lunghezza delle stringhe, e poi faccio un'operazione di math, max, ovvero l'operazione di combinazione è un'operazione di calcola il massimo tra i due valori, partendo ovviamente da zero. Quindi, a un certo punto, prenderà il massimo tra zero e il primo elemento, e questo sarà un risultato. Il risultato, a questo punto, verrà combinato con la lunghezza dell'elemento successivo, e verrà preso il massimo, e via di questo passo. Volendo rappresentare in maniera grafica, data questa operazione, possiamo immaginare di avere una sequenza di valori che arrivano, e questo è il nostro stream, partiamo dal valore iniziale, che viene chiamato identity, e applichiamo l'operazione di merge sull'identity e sul primo elemento del nostro stream. Il risultato sarà, nell'esempio specifico, 4. A questo punto andrò a fare l'operazione di max tra questo risultato e il prossimo elemento. Successivamente, sempre l'operazione max, che è l'operazione di merge, tra il risultato e l'elemento successivo, e poi un'altra volta tra il risultato e l'elemento successivo, e via di questo passo, finché raggiungo l'ultimo elemento del mio stream. In generale, il valore di partenza viene chiamato un valore di identità perché dovrebbe essere un valore che è identità per l'operazione di merge che viene applicato. Nel caso del max, avendo dei valori interi maggiori di 0, il valore 0 è il valore di identità, cioè qualunque valore vada a utilizzare qua, max tra questo valore e 0 ci darà sempre quel valore. Se io qui metto un valore che non è un valore di identità per l'operazione che vado ad eseguire, il rischio è che l'identità venga trasferita in avanti e quindi sia risultato finale. E quindi la mia operazione di reduce sostanzialmente non faccia altro che darmi come risultato quello dell'identità. Questa operazione, come vi dicevo, è un'operazione bounded perché di volta in volta per ogni iterazione ho bisogno di un unico valore, quindi il valore corrente, e quindi posso eseguire questa operazione. Questa operazione, oltre ad essere bounded, è facilmente parallelizzabile. Infatti, per gli stream esiste un metodo che si chiama parallel che sostanzialmente cosa fa? Prende lo stream e lo suddivide in tanti stream paralleli, ognuno elaborato in parallelo rispetto all'altro. Quante volte? Beh, sostanzialmente il numero di elaborazioni parallele corrisponde al numero di core della CPU su cui viene eseguito il codice. Tanto per darvi un'idea, in termini di parallelizzazione di un'operazione di reduce, se immaginiamo di avere due CPU, il nostro stream verrà diviso in due sottostream e per entrambi andrò a fare operazioni di merge di volta in volta, a partire ovviamente dall'identità. Alla fine, quando ho completato i due sottostream, farò un'ulteriore operazione di merge tra i due e andrò a calcolare il risultato finale. Ovviamente, questa operazione di parallelizzazione potenzialmente ci può dare dei risultati molto interessanti e quindi prestazioni molto migliori rispetto alla versione semplice e lineare. Un'altra operazione terminale, analoga a quella di reduce che abbiamo appena visto, è l'operazione di collect, che però rispetto alla reduce è un po' più complicata perché permette di andare ad accumulare risultati all'interno di un oggetto che è molto più complicato di un valore che viene combinato a coppie. Qual è l'idea? È che io devo fornire tre elementi che definiscono quella che possiamo chiamare una ricetta per andare a fare l'accumulazione. Il primo elemento è un supplier, ovvero un metodo, scusate, un oggetto di tipo supplier che costruisce l'oggetto in cui vado ad accumulare i risultati. Una funzione di accumulazione, quindi quello che si chiama una by-function che riceve due parametri e va a spiegarmi come faccio l'accumulazione di ogni elemento dell'array all'interno dell'oggetto di accumulazione e un combiner che viene sostanzialmente utilizzato quando devo andare a combinare, avendo più string paralleli, due oggetti di accumulazione tra di loro per andare a dare un risultato unico. Nel caso specifico che cosa abbiamo? Utilizziamo noi come oggetto di accumulazione questo che è un oggetto molto molto semplice che contiene un unico attributo intero n che andrà a contenere sostanzialmente la somma dei valori che vado a esaminare all'interno del mio stream. Immaginiamo di avere uno stream di interi, il mio supplier cosa fa? Mi crea un nuovo oggetto di tipo A che qui vedete che utilizzo un method reference con l'operatore new. L'accumulazione avviene tramite questa lambda che riceve l'accumulatore e il prossimo elemento e semplicemente va a sommare all'attributo n dell'accumulatore il valore del prossimo elemento dello stream. Il combinatore, che eventualmente in caso di, ripeto, in caso, soltanto in caso di stream paralleli viene utilizzato, fa la somma dei valori n dei due accumulatori. Volendo andare a rappresentare che cosa avviene in maniera grafica possiamo avere il nostro stream di elementi interi. La prima cosa che facciamo è di sfruttare il supplier per andare a creare l'oggetto di accumulazione e successivamente possiamo andare a sfruttare il nostro metodo di accumulazione per andare a sommare il primo elemento al valore contenuto all'interno del nostro accumulatore. E via di questo passo andiamo a prendere il prossimo elemento, lo sommiamo, prendiamo quello successivo, sommiamo anche questo, andiamo a prendere ancora un altro elemento e lo sommiamo, perché questa è l'operazione che fa il nostro accumulatore. una volta che abbiamo il nostro accumulatore possiamo avere necessità di combinare gli elementi tramite quello che è il combiner e quindi immaginando di avere più parallel stream ci ritroviamo a sommare i valori n di più accumulatori o nel caso in cui non abbiamo nessun parallel stream sostanzialmente abbiamo già il risultato. Un altro esempio di collect è quello che prende gli elementi di un array di uno stream e li mette all'interno di una lista. Qui ad esempio il supplier in questo caso è un linked list e due punti due punti new quindi mi creano un nuovo linked list in cui andare a fare l'operazione. L'accumulatore è il metodo add della lista quindi prende l'elemento prossimo elemento nel nostro stream e lo aggiunge e il combiner nel caso specifico è il metodo add all che dato una lista aggiunge tutti gli elementi dell'altra lista a quella di destinazione. Schematicamente il comportamento è quello che vediamo qua quindi inizialmente il nostro supplier produce una linked list e poi successivamente l'accumulatore che corrisponde nella chiamata del metodo add della lista aggiunge i vari elementi all'interno della nostra lista e alla fine in presenza di altri stream paralleli viene chiamato il combiner che aggiunge tutti gli elementi dell'altra lista alla lista corrente e quindi il risultato sarà una lista che contiene tutti gli elementi dello stream. Quando abbiamo a che fare con gli stream è bene ricordare che il meccanismo permette di andare a fare quella che si chiama una lazy evaluation ovvero le elaborazioni dei dati vengono svolte soltanto quando è necessario quindi prima di tutto andiamo a costruire quella che è la pipeline ovvero tutta la serie di operazioni che vengono fatte eventualmente poi svolte in parallelo e successivamente nel momento in cui viene invocato per la prima volta un'operazione terminale allora viene eseguito tutto e quindi si va a richiamare il primo elemento della sorgente verrà eseguito la prima operazione dello stream e via di questo passo. Per questo motivo quando noi dobbiamo andare a utilizzare la collect il primo parametro che passiamo non è l'oggetto accumulatore perché in questo caso l'avremmo già creato prima ma viene chiamato viene passato un supplier che nel momento in cui deve essere eseguito l'operazione di collect crea l'oggetto di accumulazione e questo permette una vera e propria valutazione pigra ovvero soltanto del momento in cui effettivamente necessario viene creato l'oggetto di accumulazione e poi verrà successivamente per ogni elemento dello stream chiamato l'elemento di accumulazione. Una nota importante da fare parlando dei due operazioni terminali che abbiamo descritto per ultime ovvero la collect e la reduce è che la reduce tendenzialmente è bounded ovvero utilizza una quantità di memoria limitata e che non è sostanzialmente proporzionale al numero di elementi c'è sempre un elemento che di volta in volta viene ricalcolato mentre invece la collect tendenzialmente è unbounded ci possono essere dei casi in cui è bounded se semplicemente faccio un conteggio ma in linea di principio se pensiamo al caso della lista è unbounded perché la lista cresce e le dimensioni occupate sono sostanzialmente dipendenti dal numero di elementi che io vado ad aggiungere all'interno della lista e quindi devo andare a utilizzare un meccanismo ad hoc per andare a combinare diversi calcoli che vengono fatti in più stream paralleli collettori predefiniti in particolare sono degli oggetti che possono essere utilizzati tramite il metodo collect per andare a raccogliere gli elementi che si trovano in uno stream i collettori predefiniti possono essere generati utilizzando dei metodi statici che si trovano in una classe che si chiama collectors essendo dei metodi statici è molto comodo andare a utilizzare un import static di java-outil-stream-collectors punto asterisco in modo da poter menzionare direttamente questi metodi e di conseguenza andare a generare i collettori ad esempio io posso andare dato uno stream di parole a fare un collect-everaging-int a cui passo un oggetto che estrae un intero length e averaging-int è uno dei metodi statici definiti dentro la classe collector questo metodo fa parte di una serie di metodi che servono a sintetizzare alcune caratteristiche di uno stream e che vediamo riepilogati in questa tabella in particolare vediamo counting che sostanzialmente va a estrarre il conteggio degli elementi max-by o min-by che permettono di andare a prendere il minimo o il massimo elemento in base a una caratteristica che viene specificata che è sostanzialmente caratterizzata tramite un comparatore summing, averaging e summarizing che sono tre diversi metodi che sostanzialmente fanno fare delle operazioni di sintesi e vanno a generare interi long o double e quindi sono forniti in diverse varianti summarizing in particolare va a costruire degli oggetti che si chiamano int summary statistics long summary statistics e double summary statistics che sostanzialmente contengono un insieme di parametri statistici che sintetizzano dei dati abbiamo poi altri collettori che permettono di andare ad accumulare all'interno di collezioni in particolare abbiamo to list che va ad aggiungere all'interno di una lista to set che aggiunge all'interno di un set to collection che va ad aggiungere una collezione e questa collezione viene fornita tramite un supplier che viene passato al metodo o joining che sostanzialmente non fa altro che andare a prendere gli elementi della lista convertirli in stringa e poi andare a concatenarli tramite un separatore ed eventualmente andando a mettere un elemento prefisso e uno postfisso che sono ovviamente tutti opzionali in questo esempio possiamo vedere come utilizzare questi collettori che raggruppano e raccolgono all'interno di una collezione allora qui abbiamo uno stream di stringhe facciamo un filtro per lunghezza maggiore di 10 facciamo un'operazione di distinct andando a eliminare i duplicati facciamo un'operazione di sorted andando a confrontare in base alla lunghezza inversa in modo che i primi elementi siano quelli che hanno la lunghezza più lunga quindi sia un ordinamento decrescente facciamo un'operazione di limit a tre quindi andiamo a prendere i primi tre e facciamo un collect to list questa operazione sostanzialmente raccoglie all'interno di una lista le tre stringhe più lunghe ovvero le tre parole più lunghe che erano presenti nello stream iniziale questo ovviamente è un esempio perché cosa succede se invece di avere tre posizioni che hanno tre lunghezze diverse abbiamo più parole che hanno lunghezze analoghe questo limit tre ne va a prendere tre e dipende ovviamente da come viene fatto l'ordinamento in questo punto all'interno di questi diversi accumulatori è ovvio che non c'è controllo sul tipo di insieme o sul tipo di lista che viene creato per cui se io voglio andare a accumulare all'interno di una lista di un certo tipo di un insieme ad esempio ordinato dovrò andare a utilizzare un to collection esistono poi dei collettori un po' più complessi in particolare il grouping by e il partition by il grouping by sostanzialmente riceve come parametro una funzione che è un classificatore ovvero una funzione che è in grado di estrarre dagli elementi quella che sarà poi la chiave con cui andare a suddividere gli elementi del nostro stream il partition by è analogo dove in questo caso la mappa che viene creata è una mappa la cui chiave è booleana e quindi divide gli elementi del nostro stream in due grosse partizioni quindi se volete il partition by è un caso particolare del grouping by dove la chiave è una chiave booleana come funziona il grouping by sostanzialmente se vogliamo andare a raggruppare i nostri elementi in base a una chiave ad esempio vogliamo andare a ordinare a raggruppare delle stringhe in base alla loro lunghezza quello che possiamo fare è partire da uno stream di stringhe eliminare i duplicati e fare un collect grouping by dove la chiave che verrà utilizzata per fare raggruppamento è lente come funziona in pratica il nostro grouping by il grouping by parte da uno stream di elementi nel nostro caso immaginiamo che siano delle stringhe ogni elemento viene applicato un classificatore e il classificatore sostanzialmente va a definire quella che sarà la chiave e per ogni chiave viene creato un sottostream per cui al secondo elemento verrà applicato il classificatore verrà identificata una chiave che può essere uguale oppure come nel caso diversa rispetto alla precedente quindi verrà avviato un nuovo stream in cui viene accodato il nuovo elemento procedendo il prossimo elemento andrà a finire sulla prima chiave e quindi sostanzialmente avremo un nuovo elemento nello stream associato alla chiave numero 1 e procedendo troveremo un altro stream con chiave 2 che associeremo alla stessa chiave e quindi andremo ad accodare all'elemento che era precedente quindi in pratica noi abbiamo due stream che vengono messi di conseguenza a valle di questi stream c'è quello che si chiama un collettore di downstream che nel caso di default è un to list quindi il grouping by suddivide in base alla chiave e in definita la classificatore identifica una serie di stream paralleli uno per ogni valore della chiave e alla fine applica a ciascuno di questi stream un collettore di downstream che normalmente se non diciamo nulla è automaticamente il tool list quindi verrà creata una lista per ognuno di questi stream alla fine una volta che abbiamo tutte queste liste ognuna verrà inserita all'interno di una mappa dove la chiave è la chiave che corrisponde al sottostream raggruppato in quella lista è ovvio che la versione di base del grouping by è molto semplice esiste una versione un po' più complessa che è quella che vediamo qui in cui il grouping by oltre ad avere la nostra funzione che è il classificatore ovvero l'elemento che permette di andare a estrarre la chiave con cui andare a definire i vari stream e poi con cui andare a inserire nella mappa è possibile andare a costruire anche l'oggetto mappa in cui andranno messi gli elementi quindi nel caso specifico qui abbiamo una tree map il cui ordinamento è un reverse order e poi abbiamo il downstream che in questo caso è un tool list ma potrebbe essere un qualunque altro collettore quindi in questo caso specifico avremo un ordinamento discendente se torniamo al nostro esempio di prima quindi quello di andare a identificare i primi tre le prime tre stringhe per lunghezza la soluzione che avevamo visto qua sostanzialmente peccava di un limite ovvero aveva un numero di elementi che era uguale a tre e quindi sostanzialmente avrebbe scartato eventuali pari merito ecco una possibile soluzione utilizzando il grouping by consiste nell'andare innanzitutto a raggruppare in base alla lunghezza includere in una mappa ordinata quindi una sorted map che ha un ordinamento inverso in modo che i primi tre elementi siano quelli con la lunghezza maggiore ovviamente questo cosa farà andrà ad aggiungere alle tre chiavi più alte non un singolo elemento ma una lista di elementi a questo punto se noi vogliamo andare a estrarre questi quello che possiamo fare è quello di andare a utilizzare il metodo entrieset chiamato sulla mappa che viene prodotta dal metodo collect fare uno stream su questo entrieset limitare a tre quindi andare a prendere le prime tre chiavi del nostro della nostra mappa ordinata e poi fare un'operazione di flat map la flat map che cosa fa prende gli elementi che sono presenti nelle tre liste associate alle tre chiavi che corrispondono alle tre lunghezze più grandi e va a costruire altrettanti stream che vengono concatenati uno dopo l'altro e alla fine andiamo a prendere quindi tutte le stringhe che compaiono nelle liste corrispondenti ai tre numeri più alti e andiamo a raccoglierli dentro una lista con un collect to list ovviamente quando io devo fare operazioni complicate è possibile che io debba andare a combinare più collettori per questo ci sono un paio di metodi che possono essere applicati ai collettori che permettono di andare a fare delle operazioni aggiuntive per cui ad esempio c'è un metodo che si chiama collecting and then sono metodi default quindi possono essere applicati al collettore quindi collecting and then ha come parametri un collettore che quindi può fare le operazioni potrebbe essere un grouping by potrebbe essere un to list e poi c'è un and then che quindi va a prendere il risultato dell'operazione di collezione e lo trasforma ulteriormente quindi fa un mapping tra il risultato della collezione e un altro risultato che è quello che noi vogliamo ottenere oppure altra operazione è quella di mapping in cui invece di andare a prendere il risultato del collettore e trasformarlo questo fa un'operazione di map degli elementi che entrano nel collettore li trasforma li passa al collettore e poi il risultato è quello prodotto dal collettore non sugli elementi originali dello stream ma sugli elementi trasformati da questo map per cui volendo andare a prendere l'esempio di prima in cui costruisco una mappa e poi vado a prendere lo stream dell'entry set quello che potrei fare è di andare a fare un collecting and then dove vado a prendere innanzitutto un'operazione di collezione faccio qui il grouping by in base alla lunghezza della stringa all'interno di una mappa ordinata inversamente e i cui elementi sono le liste e poi vado a prendere il risultato che sarà una mappa faccio m freccia m reset stream quindi vado a prendere lo stream degli elementi che sono contenuti nella nella mappa limito ai primi tre faccio un'operazione di flat map e faccio alla fine un collect to list quindi il risultato è prima applico il collettore e poi sul risultato faccio questa operazione oltre ai collettori predefiniti che sostanzialmente rispondono a buona parte delle esigenze che noi possiamo avere nell'andare a fare operazioni di raccolta di elementi in uno stream in contenitori contenitori semplici o contenitori associativi è possibile andare a definire dei collettori speciali questo può essere fatto andando a sfruttare quella che è l'interfaccia collector l'interfaccia collector è abbastanza complessa e prevede una serie di metodi un metodo supplier che sostanzialmente è il metodo che va a costruire l'oggetto in cui andremo ad accumulare un metodo accumulato che è quello che fa l'operazione va a creare un buy consumer che fa l'operazione di aggiungere gli elementi al contenitore il combiner che è quello che fa l'operazione di andare a combinare più contenitori nel caso in cui si debba fare un'operazione di fusione di più di più contenitori se o stream paralleli un finisher che è quello che va a prendere il contenitore e lo trasforma ulteriormente come operazione finale e poi un metodo che restituisce delle caratteristiche che sono quelle che servono poi per andare a capire e quindi a guidare le operazioni di aggregazione e di inserimento all'interno del contenitore come funziona il collecting in particolare allora immaginiamo di avere il nostro elenco di elementi che scorrono nello stream la prima operazione che viene fatta è utilizzare il supply per andare a costruire quello che è uno storage ovvero il contenitore in cui andrò ad accumulare gli elementi dopodiché man mano che ho gli elementi andrò a chiamare l'accumulate che man mano andrà ad aggiungere gli elementi nel nostro contenitore andrà a creare gli elementi all'interno di una mappa o quello che ritenete più sensato a questo punto ho fatto l'accumulazione se immaginiamo di avere più stream paralleli è possibile che arrivi un altro storage da uno stream parallelo e quindi viene chiamato un'operazione di combine per andare a combinare i due contenitori risultati dall'accumulazione dalla collezione dei due stream paralleli e infine andrò a chiamare un'operazione di finish che prende lo storage e produce quello che è un risultato quello che posso fare per andare a costruire dei nuovi collettori ad hoc è di utilizzare il metodo of che è definito all'interno dell'interfaccia collector e quindi scrivere collector of e passare il supplier l'accumulator il combiner il finisher e le caratteristiche per cui ad esempio io se voglio avere un collector che raccoglie delle stringhe quindi tipo di elementi all'interno di una lista di stringhe e restituisce una lista di stringhe quindi sostanzialmente non fa nessuna operazione di finisher andrò a definire un supplier ovvero l'oggetto funzionale che costruisce l'oggetto quindi in questo caso andremo a fare un array list new andremo a definire l'accumulator ovvero l'oggetto funzionale che fa l'operazione di aggiunta all'interno del contenitore andremo a fare un combiner che in questo caso che cosa fa dati due contenitori che saranno due liste fa a.addallb quindi aggiunge tutti gli elementi di b all'interno di a e poi restituisce a qui non è messo nessun finisher quindi sostanzialmente prendiamo il risultato che è quello costruito da questo supplier e sostanzialmente lo restituiamo senza fare nessuna operazione ulteriore quindi volendo applicare il nostro collettore cosa succede abbiamo la lista di elementi abbiamo supplier che va a creare la release che inizialmente è vuota man mano che andiamo a chiamare l'accumulatore cosa facciamo abbiamo l'accumulatore che sostanzialmente prende l'elemento e lo aggiunge al lo aggiunge al nostro contenitore a questo punto il prossimo elemento verrà aggiunto quindi il nostro contenitore conterrà tre elementi io l'ho disegnato tre volte ma in realtà è esattamente sempre lo stesso oggetto a release in cui vado ad accumulare nuovi elementi ne aggiungo un altro che farà l'operazione di add ne aggiungerà il nuovo elemento e via di questo passo aggiungendo tutti gli elementi che arrivano all'interno del nostro contenitore il risultato non essendoci alcun finisher e non essendo uno string parallelo è quello che verrà preso e dato come risultato dell'operazione di collezione abbiamo detto che in questo caso non è presente il finisher l'altro elemento che non è presente rispetto alla sintassi che abbiamo definito prima è quello che definisce le caratteristiche di un elemento quindi quali sono le possibili caratteristiche beh sostanzialmente nel metodo ovvio posso andare ad elencare diverse caratteristiche una possibile caratteristica è identity finish ovvero vado a dire che il finisher è un identity function che sostanzialmente prende il contenitore e lo restituisce tale quale un'altra possibilità è quello di dire che il contenitore è concurrent vuol dire che io posso andare a chiamare da due thread contemporanei l'operazione di accumulazione il metodo scusate la caratteristica Nordred invece dice che sostanzialmente non è rilevante l'ordine con cui vado ad aggiungere gli elementi ovviamente questo dipende dal tipo di contenitore in cui vado ad accumulare i miei elementi le caratteristiche possono essere utilizzate per andare a ottimizzare effettivamente come funziona il collettore per cui ad esempio se sia la caratteristica concurrent che la caratteristica a Nordred sono specificate e io ho uno stream parallelo sostanzialmente il metodo di accumulazione può essere invocato più più thread paralleli e praticamente a questo punto il combiner non viene utilizzato perché invece di andare ad accumulare separatamente in diversi accumulatori e poi combinare man mano se dico che è unordered ed è concurrent allora do la possibilità al codice che gestisce questi API di fare un'operazione molto più veloce ovvero chiamare in maniera concorrente l'accumulatore che quindi aggiunge sempre comunque allo stesso contenitore senza necessità di doverlo combinare poi successivamente riepilogando gli stream rappresentano un meccanismo molto potente per andare a esprimere una serie di elaborazioni fatte in sequenza uno dopo l'altro su quello che è uno stream una sequenza di elementi le operazioni possono essere ottimizzate in maniera significativa ed eseguite in parallelo e possono essere soprattutto espresse con una notazione funzionale quindi è estremamente compatta ed è decisamente più leggibile rispetto a una notazione imperativa in cui io devo andare esplicitamente a mettere i cicli di elaborazione e dove non posso andare ad annidare una chiamata dopo l'altra quindi ho una sintassi molto più flessibile molto più leggibile che nasconde tanti dettagli che vengono poi sfruttati in fase di ottimizzazione delle operazioni di ottimizzazione